Svapoweb, il primo centro commerciale di sigarette elettroniche in Italia con più di 100.000 articoli. A Benevento, in Via Napoli, con trade pitaffio sulla strada statale Appia. Direttore, tre punti fondamentali per la rincorsa a salvezza? Ma tre punti importanti che servivano soprattutto al morale dei ragazzi, poi per la classifica sono fondamentali. È un buon inizio per noi, perché come ho detto ai ragazzi per la partita, per noi è come se fosse la prima partita. Sono molto contento soprattutto per l'impegno che hanno proposto in campo e hanno seguito la lettera le direttive del mister. Direttore, per questi ultimi tre mesi forse c'è qualcosa da aggiustare o si finirà così? No, il gruppo è un gruppo coeso, un gruppo compatto, un gruppo che può dire la sua in termini soprattutto agonistici, perché i ragazzi hanno dimostrato oggi in campo di voler la vittoria e l'hanno ottenuta. Dal punto di vista tecnico, con l'avvento del mister e le correzioni tattiche che l'ha fatto, sono veramente molto molto contento oggi. Io credo che siamo sulla buona strada, bisogna lavorare e ovviamente bisogna fare partita per partita. Sabato si spettaggiava un altro scontro diretto importante, andremo lì con la consapevolezza di essere una squadra, tra virgolette, in questione della provinciale, però non abbiamo parlo di nessuno. Grazie direttore Guariglia. Grazie a voi. Volevo l'ultima cosa, ringraziare i nostri tifosi che sono stati molto vicini oggi. Li aspettiamo sempre più numerosi e veramente sono stati molto calorosi. L'apporto loro è stato fondamentale anche nei momenti di difficoltà dove la squadra stava soffrendo, loro sono stati molto vicini. Veramente grazie al pubblico e li aspettiamo sempre più numerosi. Grazie. Mister Viscito, tre punti con tanta sofferenza, però alla fine tre punti sono arrivati. Sì, sicuramente, però penso per quello che avevamo espresso nell'arco della partita meritavamo la vittoria, anche perché siamo andati due o tre volte di ripartenza, potevamo fare anche il terzo gol e non ci siamo riusciti. Poi alla fine loro hanno fatto il gol e come giusto che sia, loro si sono galvanizzati e noi siamo andati nella paura, appunto per paura di perdere questa gara, che per noi era basilare, era un nuovo corso, un nuovo modo di stare in campo, quindi tante situazioni che è anche giustificato gli ultimi dieci minuti di sofferenza. Mister, nuovo modulo, 3-4-1-2 con Manzo dietro le due punte, poi ad un certo punto del secondo tempo addirittura si è tornati al 3-4-3 con Manzo largo a destra. Sì, sicuramente, anche perché gli avversari ci avevano preso le contremisure, stavamo soffrendo e quindi io ho adattato il nostro modo di stare in campo, togliendo quell'uomo davanti al loro vertice basso che non serviva più e l'ho messo sull'esterno in modo tale da poterli giocare alle spalle dei quattro centrocampisti. L'ultima domanda, mister, sabato a Solofra un altro sparigio salvezza. Adesso pensiamo a questa, poi a Solofra ci penseremo da domani. Sì, adesso godiamoci questa vittoria perché i ragazzi se la meritavano, mi hanno dato massima disponibilità, si sono impegnati massimi, si sono sacrificati e oggi ho visto un po' di quelle cose che servono per poterci salvare. Grazie, mister Viscito. Grazie a lei. Allora, un primo tempo non esaltante, poi un secondo tempo dove la squadra si espressa molto meglio. Sì, abbiamo sbagliato proprio l'approccio alla gara, siamo stati molto timorosi e paurosi e all'inizio abbiamo sbagliato moltissimo nelle scalate, nelle coperture e quindi questo ci ha messo in grossa difficoltà dando molto campo all'avversario e facendogli giocare palla. Il 2-0 forse è il momento migliore proprio del Costa da Malfi? Purtroppo è così, quando una squadra pressa, crea e non mette la palla dentro capita che poi alla prima situazione gli regaliamo anche il secondo gol, il primo che abbiamo regalato e gli abbiamo regalato anche il secondo gol. Purtroppo in questo momento ci dice così, commettiamo degli errori, veniamo puniti immancabilmente e non abbiamo una buona vena realizzativa, però dai ragazzi posso ringraziarli per l'impegno che hanno profuso nel secondo tempo e hanno cercato fino all'ultimo di riagguantare il risultato ma purtroppo il tempo non è bastato. Continuano quindi questi scontri diretti, oggi la battì Pagliese, le prossime del Costa da Malfi in casa soprattutto non può più sbagliare, non può più perdere punti? Guardi, ormai non è un fattore in casa o fuori casa, è un fattore che ogni partita deve essere giocata al massimo e stiamo cercando di ottenere il possibile e il massimo del risultato. Io penso che in questo momento nessuno è tranquillo, qualsiasi partita possa avere un risultato positivo per tutte e due le squadre che lo giocheranno. Non penso neanche che ci sia una superiorità così netta da parte delle squadre che stanno in cima che possa determinare già prima un risultato a favore della squadra di vertice. Quindi io penso che tutte le partite siano aperte a tutti i risultati. È chiaro che il livellamento del campionato non è molto verso l'alto, quindi io non vedo delle squadre che abbiano un passo in più rispetto agli altri. Però adesso sarà il periodo più importante, adesso tra febbraio e la metà di marzo saranno sei partite in cui si potranno delineare diciamo gli standard delle squadre e questo sarà molto importante. Però per quanto mi riguarda noi cerchiamo di giocarci la partita e fare il risultato ovunque andiamo o in casa o fuori casa cambia poco. La cosa importante è cercare di giocare fino al centesimo dando il massimo. Chiaramente in questa categoria se si commettono degli errori se li paghi non c'è prova d'appello. Quindi bisogna commettere meno sbagli possibili, meno errori possibili per cercare di ottenere un risultato positivo. Grazie, mi sto contando. Buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.